Buongiorno, mi è venuta voglia di fare un dolce ma io ho solo prodotti bio. Si trova nel posto giusto e oggi è fondamentale alimentarsi in maniera naturale scegliendo prodotti biologici dei quali si conosca la provenienza e gli ingredienti. Eh ma io sono una persona complicata e esigo anche attenzione all'ambiente, c'è? C'è una soluzione anche per quello, ci sono degli alimenti sfusi come anche la cosmesi sfusa. Si viene col flaccone o con un sacchettino e si riempie il prodotto selezionato, sempre rigorosamente biologico. E poi vorrei cucinare senza glutine. C'è la soluzione anche per quello, ci sono degli alimenti senza glutine, senza latte o senza uova proprio per andare incontro alle persone intolleranti e con allergia. Mi piacerebbe essere bio anche nella cura del corpo. C'è anche quello, c'è la cosmesi biologica ma anche attenta alle allergie in quanto ci stanno prodotti senza nickel che vanno bene per tutti i tipi di pelle ma in particolare nelle pelli sensibili. E poi abbiamo una vasta gamma di prodotti fitoterapici che servono per aiutare diverse patologie. Grazie. Ho le idee molto più chiare, ora vado a fare un giro. D'accordo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.